Salve e benvenuti a questo terzo episodio di Mamma, vado a fare il paleoartista. Vado, non voglio. Mi ce l'ho obbligato ad andare. Fammi però decidi. Scusate, adesso sono risolto. Ciao, salve. Ma perché salve è più simpatico, no? Più amichevole spiderman di quartiere. Ma sì, infatti. Ma sì, chiudi gli occhi Fabrizio, non guardare. Salve e benvenuti a questo terzo episodio di Mamma, vado a fare il paleoartista. Alla conduzione ci sono io, Jux, e con me... Simone e Fabrizio. Oh, l'avresti mai detto che saremmo arrivati al terzo episodio di questo podcast? Beh dai, un po' ci speravo, dai. Beh, un po' sì, no? Almeno la speranza, gabbè. Sì, bello. Anche perché era già programmata la puntata, quindi sarebbe stato strano non arrivarci. Poi sta diventando interessante, secondo me. Stiamo andando a toccare dei punti carini e anche nelle prossime puntate ci saranno delle belle sorprese, secondo me. Sì, concordo. Ma soprattutto voi che state ascoltando questo podcast, non trovate che sia molto interessante? Fatecelo sapere nei commenti. E non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter che abbiamo recentemente aperto, tra l'altro. Esatto. La potete trovare sul sito www.ilpareartistapodcast.it Fantastico. Cioè, incredibile. Meglio di così... Bello. Meglio di così vi iscriviamo... Ci si estingue. Sento proprio la mestizia. Comunque. Esatto. Oggi un nuovo interessantissimo tema su cui discuteremo. Esatto. No? Cioè? Diciamo che essendo un podcast di Paleoarte e comunque essendo la Paleoarte una raffigurazione delle creature estinte, tra cui i dinosauri, non potevamo parlare di lui. Non potevamo parlare del... Non potevamo parlare del... L'esimio. Sauron. Sauron. No. Il Sauron di tutta la Paleoarte. Il Sauro di tutta la Paleoarte. Esatto. No. Come stava dicendo Simone, appunto, essendo la Paleoarte un qualcosa di visivo, non possiamo non dedicare una puntata a come i dinosauri vengono visti e percepiti dalle persone, no? E in base a cosa la gente vede, apprezza o si aspetta la raffigurazione di queste creature incredibili, no? Esatto. In particolare, come poi la cultura pop è stata un mezzo con cui le persone si sono, nelle epoche storiche, piano piano avvicinate o comunque hanno immaginato i dinosauri, il mondo dei dinosauri. Fino ad arrivare ad oggi con noi. Precisamente. Insomma, avendo gli anni che abbiamo... Diciamo il titolo di questa puntata. Mi tolto le prove di questo. Va bene, Fabrizio Dì, il titolo di ciò, qui stiamo girando attorno da 15 minuti. Jurassic Park, quando una teoria diventa un dogma. Wow, come ti è uscito spontaneo. Hai visto? Incredibile. Solo che la preparazione era quando una teoria diventa una doga. Pensavamo a una cosa tipo letto, però in realtà... Però in realtà non era poi quello, va bene. Non era quello, ma va bene. Quindi, Jurassic Park, quando una teoria diventa un dogma, cosa intendiamo con questa frase? Allora, Jurassic Park, se vogliamo, è un pochino il punto più famoso, il picco, almeno per quanto riguarda gli ultimi anni, gli ultimi trenti anni. Un punto di svolta, magari. Sì. Un po' un... Sì. Soprattutto per la nostra generazione, dai. Sì, quelle generazioni anche un pochino prima della nostra, la nostra e anche quelle... quelli che hanno deciso di 12 anni adesso, no? Anche. Sì, anche, anche, esattamente. Diciamo che è un pochino il prodotto audiovisivo di cultura pop che ha sdoganato maggiormente i dinosauri, no? Sì, esatto. Infatti, bene o male, penso che... Tutti conoscano chi più chi meno, tutti abbiano visto almeno una volta Jurassic Park. O anche chi non l'ha visto e pensa a un tirannosauro, ad esempio, mi viene in mente quello di Jurassic Park. Jurassic Park, anche perché comunque si tratta di una esalogia di film, perché ci sono tre... Due trilogie. Due trilogie, tra Jurassic Park e tra Jurassic World, che comunque si sviluppano in trent'anni di tempo. Quindi, comunque, un prodotto audiovisivo di cultura pop veramente molto ampio. enorme, insomma. Probabilmente, se non contiamo i 10.000 film della ricerca della Valle Incantata, possiamo dire uno di franchise di questo tipo più longevi. Sì, da quanto poi si è sentito, vogliono anche andare avanti, quindi con altri nuovi film. Quindi, Jurassic Park lo prenderemo un pochino come punto di esempio più eclatante, per appunto parlare del rapporto che la scienza e la cultura pop hanno avuto nella rappresentazione e poi divulgazione. Anzi, magari direi proprio il ruolo che ha avuto Jurassic Park in quanto film come ponte tra la cultura scientifica e l'immaginario popolare che ha la gente, no? Esatto. Ad esempio, Jurassic Park. Una delle cose più iconiche di Jurassic Park è il Velociraptor, ad esempio, no? Sì, certo. Quindi, la gente che è uscita dalle sale nel 93-94, quando è uscito Jurassic Park, pensava seriamente che il Velociraptor avesse quelle proporzioni, quelle forme, che fosse fatto così effettivamente una volta. Poi, andando avanti negli anni, ovviamente la scienza con le nuove scoperte e le nuove teorie si è uscito fuori con... Sì, che il Velociraptor era fondamentalmente un dinosauro molto diverso da come veniva rappresentato nel film. Era un dinosauro che era sicuramente piumato a certi livelli, insomma, quindi rappresentava un livello di piumaggio medio abbondante, che possiamo chiamarlo così, insomma, rispetto alla versione squamata un po' da Lucertolone che c'era nel film. Che di piume non aveva niente. No, non aveva assolutamente nulla, a parte nel terzo episodio che aveva queste specie di... Sì, di creste. Sì, di spulsoni un po' piumosi. Non sappiamo neanche come definirle. Erano un po' delle protopiume. Delle protopiume, però rigide come gli aculi dell'istrice, sulla testa tipo crestina. Però, insomma, di solito erano comunque un animale glabro, quindi senza nessun tipo di piuma o pelo. E poi era gigantesco, mentre invece Velociraptor si dice sempre che probabilmente avrebbe dimesso in un tacchino, però potremmo immaginarcelo più come una specie di grossa aquila bipede terricola, tutto sommato. Esatto, certo. Beh, comunque sì, l'iconografia del Velociraptor ormai tutti quanti la associano a quella di Jurassic Park. Ok, quindi, parlando di come venivano visti i dinosauri, no? Facciamo qualche passo indietro, no? Su una linea temporale. Giusto un paio. Giusto qualche anno fa, no? Dal Crystal Palace, no? Quindi prima esposizione universale, Londra, 1854, no? Esatto. L'altro ieri. Praticamente, insomma, dai punti di vista, no? Quindi, il principe Alberto commissiona questo palazzo per appunto esporre tutta una serie di innovazioni tecnologiche e scientifiche dell'epoca e tra questi si ritrova le prime ricostruzioni fisiche, diciamo comunque scolpite tridimensionali, dei dinosauri, no? Beh, qual era la grossa differenza tra il prima e il dopo Crystal Palace, diciamo? Allora, diciamo che il Crystal Palace, per quanto riguarda poi la paleontologia, la paleoarte, comunque i primi punti di contatto tra la cultura popolare, che oggi chiameremo pop culture, mentre invece una volta era semplicemente quello che la gente leggeva sui giornali, tranquillamente, diciamo che i dinosauri per l'epoca erano un po' la grande novità. Nel senso che i primi dinosauri sono stati scoperti principalmente in Inghilterra ed erano stati scoperti da poco tempo. Anche la parola dinosauro, non mi ricordo se è stata coniata nel 1864 o qualche anno prima dell'esposizione universale, quindi comunque anche quella era una cosa molto fresca. Quel secolo, in quel periodo lì proprio, certo. In quei decenni, insomma. Quindi diciamo che i dinosauri erano proprio la cosa nuova, la cosa che in un'esposizione universale del genere portavano veramente meraviglia, terrore, che poi dei nos, in greco, che è la parola, una delle parole radici della parola dinosauro, vuol dire terribile ma anche proprio terribile nel senso di... Anche magnifico, terribile nel senso non brutto, non solo negativo, certo. Esatto, quindi tutto sommato era proprio la cosa che da un certo punto di vista è diventata veramente un fenomeno culturale nella Londra dell'epoca e c'erano queste statue, diciamo a grandezza naturale, anche se poi le forme sono cambiate talmente tanto. Sì, diciamo che per l'epoca loro pensavano che fosse la dimensione giusta per l'animale che veniva rappresentato. Esatto. Anche perché se non esisteva ancora la pantalogie immagino che costruire uno scheletro non fosse esattamente una cosa all'ordine del giorno magari. No, esatto. Ma forse sì, sai, comunque la tassidermia era praticata, forse ancora ancora. Era praticata, però l'esempio più classico è quello di Iguanodon che fondamentalmente per quanto riguarda lo scheletro si pensava che il pollice, l'osso lungueale, che poi l'osso dell'unghia, che noi non abbiamo mai, i dinosauri avevano, del pollice che era parecchio lungo e appuntito, si pensava fosse una punta sul naso. Tipo rinoceronte. Tipo rinoceronte, però il corpo dell'animale era fondamentalmente una grossa iguana con questo puntone sul naso qua. Quadrupele con la coda lunga trascinata per terra, certo. Proprio tipo rettilone, ecco, tipo lucertolona. È fantastico, se non lo conoscete andate a vedere. Vabbè, un po' come poi è stato rappresentato il dinosauro nel film Viaggio al centro della Terra, una delle prime versioni, se non sbaglio, aveva questa forma di... Cioè, era una lucertola, qui avevano attaccato sulle spine, sulla spina dorsale o qualcosa sul naso. Se non sbaglio era la versione degli anni 60, quella lì, che c'era appunto una specie di iguana con una specie di... È perché è un immaginario comunque che si è trascinato film che un po' si vogliono comunque avvicinare alla realtà, ma che devono, per forza di cosa, spettacolarizzare il tutto, la faccenda, e quindi diventano poi anche dei punti di riferimento sbagliati per, nel nostro caso, i paleoartisti che vengono dopo e vedono quei film lì. Diciamo che c'è un pochino una premessa da fare, nel senso che entrambe dei prodotti di cultura pop e la scienza fondamentalmente parlano a un pubblico. Solo che, mentre la scienza comunque ha bisogno delle basi di conoscenza per essere poi letta e interpretata, la cultura pop, che può essere un film, un romanzo, un fumetto, quello che è, è molto più... È alla portata di tutti. Esattamente. Essendo di solito contemporanea... E poi comunque, basandosi molto anche sulle figure, che sono comunque un linguaggio che non ha una lingua, no? Quindi può essere veramente distribuita in tantissimi paesi senza dover subire traduzioni. Però la cosa diversa che c'è tra scienza, comunque tra evoluzione della conoscenza scientifica e evoluzione della cultura pop, è che fondamentalmente, mentre le certezze nella scienza vengono distrutte e poi su queste si costruisce cose nuove, mettendo un po' La certezza al 100% non c'è proprio mai, diciamo... Esatto. Nella cultura pop una rappresentazione viene cristallizzata in quel periodo lì e poi da questa rappresentazione viene evoluta in forme nuove. Infatti si parla proprio di un'evoluzione al posto che di un ricambio effettivo di quello che c'era prima? Sì. Dell'immagine e dell'immaginario. Per citare i dinosauri di Jurassic Park di prima dei Veloci Raptor, fondamentalmente tra il primo e il terzo film, che sono passati dieci anni per esempio, ci sono state delle nuove consapevolezze a livello scientifico, però fondamentalmente l'immagine cristallizzata del Veloci Raptor del 93 era la stessa dieci anni dopo, con alcune modifiche però la stessa. Ma anche perché poi io mi immedesimo nei panni di chi fa il film. Fino a quel momento il dinosauro è fatto in un modo che non puoi stravolgerlo perché la scienza è andata avanti. Si parla comunque di un film con mostri, sono mostri dinosauri, dinosaureschi, però sono comunque sempre mostri. Non puoi stravolgerlo più di tanto. Già nel terzo film l'hanno fatta abbastanza però, perché comunque se uno va a vedere i modelli del primo film e del terzo film, sono abbastanza diversi. Sì, vero. Anche la postura. Sono abbastanza diversi. Anche la postura cambia un po'. Però non si può cambiare più di tanto. Però secondo me cambia anche il fatto che è un prodotto che è rivolto a un pubblico che tu hai abituato in una certa maniera. È già difficile poi proporlo in una... Non puoi cambiarlo. Non puoi, sei proprio vincolato a certi... Esatto. All'immaginario che ormai hai creato con... Infatti nell'ultimissimo film di Jurassic World, quello che è uscito nel 2022, da poco, quando registriamo questo podcast, effettivamente l'unico escamotage che potevano fare era di inserire un nuovo dinosauro simile per Aspetta al Velociraptor, piumato. Mi risulta che è stata fatta questa cosa. Molto bene, devo dire. E quindi... E vabbè. Sono scelte del registro. Sono scelte, sono scelte, ispirate da dati che hanno loro. Diciamo che comunque è un prodotto filmico, comunque artistico. Prendiamo questo termine in maniera estensiva. Comunque deve avere una continuità, come diceva Fabrizio, delle scelte artistiche che hai fatto all'inizio. Esatto. Questo è interessante e lo prenderei come aggancio per tornare un pochino indietro. Vai. Quindi, dopo l'esposizione universale, no? Mmh. Seconda metà del XIX secolo. Sì. Andiamo alla prima metà del XX secolo. Esce un romanzo di grandissimo successo per l'epoca, che è Il mondo perduto. Il primo libro del ciclo del professor Challenger, scritto da Arthur Conan Doyle, lo stesso autore di Sherlock Holmes, nel 1912, no? Precisamente. Ha ancora un fascino particolare. Sì, tra l'altro è il libro bellissimo, l'ho letto qualche anno fa. L'ho riletto da poco, non è passato neanche un anno, ma è un fascino, a parte le tematiche un po' colonialistiche, un po', rileggendolo adesso si sente che è un po' invecchiato, però ha quel fascino particolare. Da avventura di stampo vittoriano. Esatto. Sì, fine 800, inizio 900. Sono passati solo 110 anni, dai, tutto sommato, in effetti. No, no, però nel senso, quando Conan Doyle ha scritto, lui era cresciuto nel periodo vittoriano, quindi le influenze comunque di quell'Inghilterra imperiale e imperialista c'erano ancora. Eh sì. Ma noi non stiamo parlando della parte imperialista, stiamo parlando della parte paleontologica, no? Esatto, esatto. Quindi, nel 1912 esce il romanzo. Di quel romanzo fanno un adattamento cinematografico nel 1925. Esatto. Quindi, si rifà un pochino all'immaginario dato da quelle sculture al Crystal Palace, ma le evolve un pochino. Perché, se non ricordo male, oddio, il film non lo vedo da un pochino, ma i dinosauri, anche nel romanzo, erano presentati come creature molto più grottesche, mostruose. Anche se poi, alla fine, i dinosauri sono animali. Ma qui c'è una cosa interessante del libro e del film del Mondo Perduto, perché nel romanzo del Mondo Perduto il cattivone, tra virgolette, del libro è un allosauro. Il dinosauro più cattivo che avevamo scoperto fino all'epoca era l'allosauro, mentre invece nel film c'è un tirannosauro. Ed è carina questa cosa, perché nel frattempo è stato scoperto il tirannosauro e lo hanno utilizzato come cattivone. C'è questa scena in cui combatte contro un triceratopo, se non mi ricordo mai. Sì, iconica quella scena, l'hanno vista tutti, anche chi non ha visto il film, probabilmente. Questo ci fornisce un piccolo spunto, diciamo, da punto di vista paleontologico, perché appunto, come diceva Fabrizio, all'osauro è stato scoperto alla fine dell'Ottocento, con quella che poi è chiamata la Guerra delle ossa, che è un capitolo molto interessante della storia della paleontologia, che però non tratteremo oggi per motivi di tempo. Nel 1905 invece è stato scoperto Tyrannosaurus Rex, che è stato tra l'altro uno dei primi dinosauri che ha avuto un nome quasi studiato come se fosse un brand di un prodotto. Funziona molto bene. Esatto, ma perché in realtà il Tyrannosaurus Rex all'inizio non era chiamato così, era chiamato Manospondilus, che era comunque un nome, uno dei nomi che ha avuto è stato appunto Manospondilus, perché richiamava un po' le mani, anche se in realtà al tempo non erano state trovate, quindi non si sapeva qual era la loro forma effettiva. Una coincidenza così. Però era un nome molto più difficile, mentre invece Tyrannosaurus Rex è poi un nome che l'ha consacrato come dinosauro famoso, diciamo. Beh, anche il nome, perché molte persone sono convinte che il Tyrannosaurus fosse il dinosauro più feroce di tutti i tempi, più grosso di tutti i tempi, anche se poi in realtà no. È il dinosauro carnivore per eccellenza, anche se in realtà poi studiando un pochino qual è la storia evolutiva di alcuni dinosauri teropodi non aviani, si scopre che in realtà la via del Tyrannosaurus Rex, quindi un teropode gigante, diciamo, superpredatore che si nutriva di un determinato tipo di animali, è una via che è stata già percorsa sia prima che dopo no, perché poi di lì a poco si sono estinti, però era una via che era stata già percorsa in precedenza. Molte, molte? Sì, abbastanza. Tu dici del grande predatore, del superpredatore? Sì, del teropode comunque che superava i decimetri, terrestre, che comunque si nutriva magari in maniere leggermente diverse, però comunque di grossi erbivori. Certo. Era una via che già esisteva insomma. Però quello è stato un po' consacrato come dinosauro carnivore per eccellenza. E poi ormai è diventato talmente un meme il tirannosauro. Per la storia delle braccine. Delle braccine, delle dimensioni, quindi quando si scopre un nuovo dinosauro era più grande del tiranno o era più piccolo del tiranno. Più o meno feroce. Più o meno feroce del tirannosauro. C'è sempre... È diventato un po' il metro di misura, come si misurano tutti gli altri dinosauri praticamente. Come se la ferocia poi fosse un qualcosa che puoi misurare, cioè... Esatto. Sì, misura in T-Rex. A casa di misura. Uno, due, otto T-Rex. Un quarto di T-Rex. Dipende quanto sei cattivo. Quindi fa la sua prima comparsa. Beh in realtà forse la prima no, ma una delle più famose nel 1925 nel mondo perduto. E a distanza di un decennio nel 33 in un grandissimo film cult che è King Kong. Esattamente, esattamente. Che anche lì, e adesso non mi ricordo, King Kong fa vedere questo dinosauro che è probabilmente un tirannosauro. Non viene mai detto che è un tirannosauro. No, ovviamente si ispira a quello, però con dimensioni molto maggiori. Perché anche lì c'è la questione del mostro più che dell'accuratezza scientifica, no? Sì. Quindi anche lì è utilizzato come un mezzo per esprimere forse delle paure dell'uomo. Esatto. Così come poi verrà usato, come dicevamo prima della registrazione anche con Simone, per Godzilla, no? Godzilla alla fine è un'espressione delle paure della bomba atomica in Giappone. Esatto. Ho un po' anticipato quello che volevi dire tu, forse, però alla fine anche Godzilla è un dinosaurone, no? Un'iguana gigante, un dinosaurone. Sì, diciamo che lì però Godzilla è la fusione di due paure. Quindi, un po' come diceva Simone, da una parte la paura del nucleare. Sì. Perché è post Hiroshima, quindi sappiamo tutti quello che è successo, e quindi paura del nucleare. E invece una paura forse più atavica, che può essere quella di un animale che con la forza e la ferocia è sovrastante rispetto a noi, all'uomo. Infatti io volevo agganciarmi fra una piccola digressione dell'ambiente culturale che comunque ha partorito il mondo perduto e diciamo poi anche King Kong e poi i dinosauri visti come mostri, ma come mostri abitanti di un mondo perduto appunto. Quando è stato scritto il mondo perduto nel 1912 da Conan Doyle, tutto sommato si viveva ancora in un mondo e Conan Doyle si dice che appunto credesse ancora che potesse esistere sulla Terra un mondo perduto popolato da creature preistoriche. Ricordiamoci che l'era vittoriana è stata comunque un'era di enormi esplorazioni. La rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale, ma soprattutto alcune parti dell'impero britannico come per esempio l'Africa centrale, sono state proprio scoperte durante quel periodo. Livingstone, le cascate Vittoria, che poi sono la sorgente del Nilo, una sorgente che si è cercata per millenni, l'ha scoperta in quel periodo. Nel 1901 è stato scoperto Ocapi, quest'animale molto particolare. Che sembrava una giraffa in miniatura. Mezzazembrata? Mezzazembrata. Mezzazembrata. È stata scoperta nel 1901 in Congo o comunque nell'Africa centrale e comunque è stato un animale di grossa taglia che fino a quel momento è stato sotto i radar della cultura europea occidentale, che poi era la cultura da cui si è sviluppata la scienza occidentale moderna, insomma, zoologia, ecco. Quindi si pensava che in effetti in alcuni punti dell'Asia, magari nel Borme o comunque nell'Africa centrale o in Sud America, magari sui te pui, che poi sono l'ambientazione. Questi altri piani. Sì, un te pui che tra l'altro in quegli anni era stato scalato uno dei più alti. Per quello, quando andò e leggendo quella notizia, poi si è ispirato per scrivere Il Mondo Perduto. Sì, fondamentalmente si pensava che in questi luoghi, ancora vergini alla scoperta e all'uomo occidentale, fondamentalmente ci fossero non solo degli animali preistorici sopravvissuti, come per esempio poi si ritrova nelle leggende di Mochelenbembe, che è una specifista europode in Africa. Sempre in Africa. Una creatura. Esatto. Non esattamente identificata. Sì, però diciamo vagamente dinosauriana. Col collo lungo. Ma si pensava addirittura che ci fossero delle popolazioni di uomini primitivi che fossero sopravvissute. Come poi si legge in... Post Darwin, giustamente. Nel Mondo Perduto, infatti, ci sono queste creature umanoide. Un pochino più evoluta, un pochino più simile a noi, coincidenza è quella buona. Eh sì. Guarda caso, eh. C'era questa credenza. Tutto è puramente casuale. Eh vabbè. Va bene, Arthur Conan Doyle credeva anche negli spiriti, nei fantasmi, nello spiritismo. Quindi è un personaggio un po'... Sì, molte persone fanno un po' fatica a pensare che l'autore di Sherlock Holmes, tutto così metodico, logico, invece è una persona molto... Era stato anche uno dei più ferventi credenti delle fate. C'era questa storia di queste fatine fotografate da queste due ragazzine. Due bambine. Due bambine. Nel nord... Arthur Conan Doyle è stato uno di quelli che ci ha creduto più fermamente. Poi le ragazzine ovviamente hanno raccontato come avevano fatto le foto. Eh vabbè. È un personaggio. Abbastanza figlio del suo tempo. Però probabilmente questa sua fantasia è stata utile per la creazione, no? Anche di un immaginario che abbiamo noi. E comunque ha creato un mondo fantastico che è rimasto, cioè... Ripeto, rileggendolo ultimamente a me è piaciuto ancora molto il suo romanzo. Eh ma d'altro canto lo capiamo anche, no? Il fascino che hanno le leggende sugli esseri umani è fortissimo, no? Da un tempo in memore. Sì, sì. Anche se volendo possiamo pensare a... Sì, ai draghi. Ad esempio. Certo. Ai draghi, certo. Ma come è cambiato l'immagine di draghi che comunque sono ispirati magari a ritrovamenti parziali di fossili? Ah beh, certo sì, sia in Europa che poi in tutto l'Oriente fondamentalmente quando si trovava un animale strano nella Terra era sempre l'osso di quel gigante che era stato ucciso da quel drago che era stato ucciso da quell'eroe. Sì, esatto. O quel santo che poi alla fine c'è stata una transizione. Era anche carino un punto di cui avevamo discusso sempre prima di registrare il podcast perché poi noi prima di registrare ne parliamo un po'. E avevamo trovato una cosa interessante sui draghi che nelle prime immagini che abbiamo di draghi anche di millenni fa... Ma anche prima, ma anche prima, i draghi erano sempre rappresentati da serpenti, da serpentoni grossi oppure a volte anche da coccodrilli nelle rappresentazioni medievali. Poi pian pianino hanno iniziato ad avere le ali, le zampe, quelle anteriori, quelle posteriori no. E pian piano, anche arrivando alla scoperta dei dinosauri, se noi immaginiamo i draghi, adesso li immaginiamo come di... Lucertoloni o... Un dinosauresco però anche. Un po' terropo di con le ali. Un po' terropo di con le ali e quindi comunque l'immagine qua è carino perché c'è stato il contrario, no? E quindi è stata la realtà che ha trasformato la fantasia e quindi abbiamo trasformato questi serpenti più grandi quanto... Boh, più piccoli di un cavallo, un po' più grandi di una persona. Se andiamo a vedere anche sulla mitologia biblica il serpente dell'Eden. È un serpente. Era un serpente in quanto simbolo negativo, un animale viscido che striscia, velenoso, quindi pericoloso. E poi si è andato a fondere con i resti che venivano ritrovati. E sono diventati sempre più grandi i draghi. Se ci pensiamo adesso, uno quando si immagina i draghi, immagina quelli di Game of Thrones, che sono comunque dei draghi molto, molto grandi, immensi, molto più grandi di dinosauri, è stata svoltata questa cosa dalla realtà, no? La realtà che crea un nuovo immaginario fantastico. Anche perché probabilmente mi hanno iniziato a fonderli con quelli che già conoscevano, poi intanto se ne scoprivano sempre più grandi e quindi questi draghi hanno iniziato a prendere delle... Sì, esatto. Delle derive spettacolari, insomma. Delle derive gigantesche. Esatto, esatto. Facciamo un piccolo salto in avanti nel tempo. Ci muoviamo dal 33, arriviamo a fine degli anni 80. Avviciniamoci. Ok, sì. Ovviamente noi, una piccola cosa, non tratteremo di tutti i film a tema dinosauri. Prendiamo dei punti che secondo noi sono i più evocativi, i più significativi. Sì, anche i più di svolta, diciamo. Esatto. Di tutto questo discorso. Arriviamo a fine anni 80, in particolare nel 1988, e qui diciamo che cominciamo ad assistere ad alcuni film che poi sono diventati blockbuster. Sì. Magari avendo un successo ancora maggiore dei film come per esempio Il Mondo Perduto o King Kong e lanciando i dinosauri nello stardom da cultura pop proprio in pompa magna. E uno dei primi di questi è un film d'animazione che ricordiamo tutti per dei traumi infantili. Chi non se lo scorda alla ricerca della male incontrata. Sì, che è un film che ha fatto un successo spaventoso, che ha fatto anche da banco di prova per poi il successivo Jurassic Park, perché al tempo non si pensava che un film con i dinosauri potesse ottenere quel successo. Film, l'animazione di Don Bluth, che racconta questo mondo anche lì perduto, però ovviamente siamo nella pre-storia, in quello che può essere un Jurassic, un Cretaceo, non si sa bene anche perché... Un'era non troppo definita, insomma. Esatto. Perché c'era un mischione di dinosauri vari, diciamo che era mesozoico, tutto insieme. Un minestrone pazzesco. Però... Un grande successo e soprattutto ha contribuito a dare una visione, se vogliamo, un pochino più naturalistica dei dinosauri. Perché in quel film... Sì, più che naturalistica, un po' meno mostruosa dei dinosauri, perché poi alla fine i protagonisti, è vero che sono tutti erbivori, vegetariani, e il cattivone rimane sempre, i denti a guzzi, quindi... Il tirannoso. Che lì non mi ricordo se aveva due o tre dita nelle mani, forse non me lo ricordo questo. Però effettivamente non erano più solo mostri in cui l'uomo cerca di combattere questi mostri, scappa da questi mostri, è sovrastato, ma è una storia fantasiosa ambientata in un'epoca mesozoica, come dicevamo prima, una cosa tra di loro, diciamo. L'uomo in questa cosa non c'entra più. Esatto. Perché, se vogliamo, appunto, è uno dei primi film con i dinosauri in cui non c'è l'uomo. Si era fatto già un tentativo con un pezzettino di quello che poi è fantasia, nel, credo, 39, che c'è quella sequenza, appunto, con la danza primavera di Stravinsky. Bellissima. Bellissima, veramente, che è proprio, veramente, un pezzo di paleoarte animata, bella potente quella lì, però fondamentalmente tutti gli altri film che poi hanno seguito, che avevano dinosauri, fondamentalmente la storia si sviluppa sempre, sono questo gruppo di persone che deve scappare da questi dinosauri assetati di sangue. Poi non è importante quale dinosauro sia, sia un tirannosauro, un apatosauro, no, ti vuole molto. Sono tutti i morti. Esatto, sono degli... Ti vuole tutto morto, no, non puoi vivere. Passa tempo a uccidere le persone come se fossero mosche. Esatto. Cosa che, invece, alla ricerca della Valle Incantata, questi dinosauri, insomma, vengono un pochino più ammorbiditi, no? Anche nei bisogni. Sì. Tipo, Piedino è la sua compagnia, non è che vuole andare... Ah, adesso sto qui, aspetto io, esseri umani, quando ti uccido... No, vuole andare in una valle, vivere tranquillo, mangiare, essere sereno nella sua vita, no? Esatto, esatto. Sì, quello che vuole, fondamentalmente, a parte poi ricongiungersi con la sua famiglia, che è un bisogno umano, ovviamente, che essendo un film d'animazione, una controparte umana... Sì, qualcosa da empatizzare con quel cancere del pubblico. Però questa Valle Incantata, fondamentalmente, è un luogo dove nutrirsi e riposarsi in pace e armonia, che fondamentalmente è quello che poi tanti animali, anche migrando, ricercano oggi. No, tutti animali, insomma, cercano un posto tranquillo. C'è sempre poi questa cosa del mondo perduto, dell'isola del Teschio, della School Island, della Valle Incantata, di questo posto da raggiungere... Dove però poi si celano... Dove... N cose. Sì, in questo caso, dove poi si sta tranquilli, perché la Valle Incantata... Sempre un posto esotico che ti dà qualcosa. C'è sempre questo viaggio. C'è sempre questo Conan Doyle che torna, questo Tepui. Sì, il viaggio c'è sempre in queste storie, ma se ci pensate anche in Tre Uomini e una Gamba, è un viaggio. Alla fine, le storie migliori... Le storie migliori partono mettendo un piede fuori dalla porta. Sono tutte dei viaggi, esatto. Esatto. Parliamo un attimino dell'iconografia di questi dinosauri, perché fondamentalmente il cambio iconografico maggiore si è avuto tra il Crystal Palace e poi quello che si vede in King Kong, mondo perduto, ma che ancora nella ricerca della Valle Incantata continua un pochino a essere presente. Quindi prima si passava da rettiloni generici di grandi dimensioni a poi effettivamente dinosauri, quindi più come li conosciamo oggi, con varie specie, vari generi, vari tipi di animali. Quindi c'era il collo lungo, che è il sauropode, il dente a guzzi, che è il terropode. Quando hai detto collo lungo, se ti sono willy-guasti toccarsi il petto. Ma no, dai, sono colli lungi. E sì, poi c'erano i becchi d'anatra, eccetera, eccetera. E certo, certo. Che erano appunto gli ornitopodi. Però insomma, cose che nel 1854 del Crystal Palace non si sapeva assolutamente che ci fossero questo tipo di... Non si erano ancora scoperti, giustamente. Esatto. Però noi sappiamo che alla fine degli anni Sessanta accade dal punto di vista dello studio dei dinosauri è una cosa piuttosto importante. Sì, diciamo che dall'inizio degli anni Settanta, poi, no? Sì, vero. Quindi c'è stato uno stravolgimento di quello che è l'iconografia dei dinosauri. Quindi da grandi, grossi, pesanti lucertoloni che si trascinavano e si dovevano muovere anche attraverso queste... paludi, questi... Sconfinati. ...acquitrini, pur di riuscire a tenere il proprio peso, a tenersi su... Insomma, aiutati dall'acqua. Esatto. Da qualsiasi cosa. Grazie a delle scoperte nuove, tra cui Deinonychus, se non sbaglio, c'è stato proprio un vero rinascimento della paleontologia e così anche della paleoarte. Quindi i dinosauri vengono visti come... Da Bucker, se non sbaglio. Sì, esatto. Vengono visti come degli animali agili, scattanti, veloci, molto più simili appunto agli uccelli di oggi. Anzi, in realtà, subito, subito, questa associazione non era proprio così immediata, però in quel periodo vedere le ossa di questi animali, tipo Deinonychus, che somigliavano molto alle ossa degli uccelli attuali, ha proprio scatenato questa rivoluzione, questo cambio di pensiero che poi ci portiamo ancora un po' avanti oggi. Le difficoltà portate ancora dal mondo perduto e da King Kong, però effettivamente è stato un punto di svolta fantastico quello. E poi diciamo che le prove evidenti di questo cambio di iconografia le abbiamo poi riscontrate negli anni 80 e 90, perché appunto negli anni 70 sono state fatte queste scoperte scientifiche che poi hanno influenzato i prodotti della cultura popolare poi nei decenni successivi, con un pochino la ricerca alla Valle Incantata, ma soprattutto il film che abbiamo citato all'inizio... Tre uomini e una gamba. Tre uomini e una gamba, esatto. Questo podcast si chiama Tre uomini e una gamba. Tre uomini e una gamba mangiata. Mangiata, è staccata, è rimasto solo la gamba. 30.000 lire e il mio pallartista la faceva meglio. Esatto. Madonna, perfetto. Quindi, 1988, alla ricerca alla Valle Incantata, cosa succede? Due anni dopo, nel 1990, un autore che piace tantissimo a Fabrizio che è... Crichton. Michael Crichton. Michael Crichton. Cosa fa? Scrive il bestseller Jurassic Park che tre anni dopo viene preso e... Diventa un film, diventa Jurassic Park il film che tutti conosciamo di Steven Spielberg. Tutti conosciamo o il film o l'universo che poi ha generato. Beh, sì. Se non sbaglio, uno dei primi film che tra l'altro ha raggiunto il miliardo di incasso, una cosa veramente... È stata una bella fortuna per i dinosauri e per Crichton in primo, ovviamente. Perché ha veramente portato nuovamente, probabilmente dopo i film, il mondo perduto, King Kong, come dicevamo prima, ha portato nuovamente in primissima vista i dinosauri in un film. Questa volta trattati con una visione molto simile a quella appunto che è nata dal rinascimento dei dinosauri. Quindi dei dinosauri attivi, pronti ad andare a mangiare le persone che vanno poi su quest'isola, su Isla Nublar, però in maniera molto veloce. Non sono dei giganteschi sauropodi nell'acqua, ma sono... E soprattutto si muovono in branchi. Si muovono in branchi. Quindi, ovviamente, la... Ancora più cattivi. Tutti in branco, tutti cattivissimi. Vengono sotto casa in branco a farti la festa. In cattiviti. E poi è fantastica perché appunto si muovono in branchi, ci sono delle piccole citazioni sia nel romanzo di Crichton che nel film di Spielberg. Crichton scrive che i rufosauri fanno i versi dei gufi, fanno dei versi simili a quelli dei gufi e quando parlano tra di loro. È fantastica questa cosa. Se ci pensate nel mondo perduto, a parte che era probabilmente muto quel film, ma avrebbero messo dei suoni molto più... Animaleschi. Ruggito, gutturale. Sì, i soliti... Esatto. Animaleschi generici. Sì. Insomma, F2. Mentre invece... Sbarmellati. Sbarmellati. Quindi, Jurassic Park. Sì. Ad esempio, un animale che mi piace un sacco in Jurassic Park è il dilophosauro. Fantastico. Ma, poi avendo letto il libro, ho visto che il dilophosauro del film sta tantissimo alla mia sinistra e invece quello del libro sta tantissimo alla mia destra. Un'altra roba completamente. Sì, che poi c'è anche la citazione di Dennis Nedry. Pensavo fossi tuo fratello più grande. Lo dice? Nel film lo dice, sì. Nel film lo dice. Perché in realtà il dilophosauro, come sapete, o se non sapete potete andarlo a vedere anche su Google, era un animale lungo sui 6 metri, alto sui 3, più o meno. Sì. Probabilmente uno dei predatori più grandi del suo periodo. Mentre invece nel film è stato completamente stravolto a favore di un animale molto più piccolo. Appunto, il dilophosauro piccolino di Jurassic Park del film era un'esigenza da copione perché Stan Winston, quando stava costruendo i dinosauri per Spielberg, gli ha detto se facciamo il dinosauro delle dimensioni giuste il pubblico lo associa al Veloci Raptor. Si perde, non si capisce. Ha queste due crestine qua sul muso, è vero, sì. Però assomiglia troppo al Veloci Raptor come dimensioni e come forme. Facciamolo completamente diverso. Infatti hanno fatto un animale molto più piccolo, hanno preso il clamidosauro che è questo rettile con questa gorgera che si apre e hanno creato effettivamente di nuovo un'icona. Il dilophosauro di Jurassic Park è molto più famoso del dilophosauro. Quello vero. Quello vero. Quello che è esistito. Ed è pazzesca sta cosa. Che poi genera tutta una ovvia sequenza di problemi. Mi ricordo un commento da qualche parte che diceva Ah, io continuo a preferire i dinosauri di Jurassic Park rispetto a quelli odierni riferito a i dinosauri più mati che diciamo scientificamente accurati. Esatto. Il che immagino, insomma. Sì, perché c'è poi questo attaccamento all'immagine, all'immaginario che noi abbiamo dall'infanzia. Dall'infanzia. Sì, che poi nell'infanzia noi avevamo già dagli anni 70. Cosa avevi tu dagli anni 70? No, dico avevamo già da prima. Nel 3 anni avevamo, cioè facendo quello della tua infanzia. Più infanzia di 3 anni. Allora, io ho un libro che si chiama Tutti i dinosauri dalla A alla Z di Michael Benton che è un professore di paleontologia famoso, ancora attivo e fa dei bellissimi libri sui dinosauri ed è un libro degli anni 80 e i dinosauri erano quelli tra virgolette di Jurassic Park quindi sì dall'infanzia già da prima di Jurassic Park se lo dici tu se lo dici tu quella è paleoarte vintage fantastico quel libro lì se lo trovate andatelo a sfogliare è fantastico quel libro io sono cresciuto con quell'iconografia lì con quelle immagini Beh, come tutti quanti poi siamo almeno quelli della nostra generazione quindi anni 90 siamo proprio figli dell'iconografia che veniva poi dagli studi di Paul e della paleoarte di Gregory Paul che appunto erano questi dinosauri molto attivi che hanno appunto già stati teorizzati o comunque schecciati da Barker molto attivi molto magri molto snelli soprattutto i teropodi infatti Tyrannosaurus rex era molto più snello di quello che poi in realtà sappiamo che poteva essere oggi un bel pancione probabilmente era un animale molto più massiccio molto probabilmente e diciamo che già si può vedere un pattern perché abbiamo analizzato già un pochino di prodotti culturali riguardanti i dinosauri è un po' la tendenza che abbiamo detto all'inizio il fatto che comunque quando c'è un prodotto di cultura pop che esce e che ha successo tende a cristallizzare quella visione che si ha di un determinato argomento per anni rendendola difficile poi vestire il pane certo sì perché è difficilmente fruibile quel tipo di informazione perché fondamentalmente tu per continuare ad essere aggiornato poi sulle scoperte scientifiche devi continuare ad aggiornarti anche tu quindi devi comunque fare un piccolo sforzo per andare a cercare leggere e scrivere che poi ai tempi di Jurassic Park questo era molto più difficile perché internet era molto diverso rispetto ad oggi sì era quasi imbrunale insomma a meno che non ti leggevi i libri di riferimento insomma era molto più difficile restare al passo con la conoscenza il fenomeno culturale invece fondamentalmente rimane lì si cristallizza diventa famoso diventa di dominio pubblico e poi le persone associano subito tac sì quello è soprattutto chi come dici tu non ha nessuna intenzione non ha nessun interesse nel volersi aggiornare io penso a chi non è del mestiere non gliene può importare di meno non è particolarmente appassionato ma se invece andate a vedere il modello che ha fatto la Blue Rhino Studio del tirannosauro di Sioux che è a Chicago è un tirannosauro che se fosse messo in un film tipo Jurassic Park farebbe lo stesso bellissimo effetto pur essendo completamente diverso sì secondo me tra l'altro è probabilmente il miglior tirannosauro mai fatto fino ad oggi è bellissimo in generale c'è Andrea che mi sta indicando mi stai dicendo che sono un tirannosauro e sono bellissimo più di Sioux le braccia troppo lunghe non sei scientificamente accurato potresti essere un tirannosauro troppe dita nelle mani troppe dita nelle mani sei troppo poco estinto troppo poca coda sembra di sì va bene abbiamo appurato che non sono un tirannosauro molto bene ok quindi sempre tornando poi alle persone che facevano fatica un po' anche perché magari non essendo addetti ai lavori non andavano a cercarsi delle informazioni più specifiche un po' anche perché internet fino agli 90 inizio 2000 non era ancora così diffuso come adesso faceva fatica ad accettare perché i dinosauri fossero molto diversi da quelli che avevano già visto per esempio i dinosauri più mati oppure la differenza tra un dilophosaurus vero rispetto a quello dell'immaginario ok ma nel 1999 esce Walking with Dinosaurs sì che è una serie di documentari che è stata creata dalla BBC che ovviamente diciamo che è un po' il top di gamma per quanto riguarda i documentari naturalistici e in quel periodo lì ha buttato fuori due serie che una è Walking with Dinosaurs e l'altra è Walking with Beast che sarebbe per quanto riguarda gli animali del cenozoico quindi mammiferi megafauna del plistocene e anche prima ha buttato fuori questa serie di documentari che in Italia era stata distribuita dal programma di Alessandro Cecchi Paone La macchina del tempo e qualcuno magari all'ascolto se lo ricorda anche fondamentalmente cos'era? era un pochino uno shock culturale per l'epoca perché comunque i documentari con i dinosauri erano tutti documentari dove la maggior parte delle volte c'era un esperto in studio che parlava di dinosauri ma a parte la serie di documentari con Piero Angela in cui c'era lui che faceva un po' da inviato studio nel Cretaceo nel Giurassico nel Triassico da quelle bestie lì però erano comunque tutti animatronics che non avevano una vera e propria storyline dettagliata e poi c'era sempre l'escamotage narrativo per cui c'era Piero Angela che attraverso una macchina del tempo andava lì e lì vedeva lui non era proprio un punto di vista come da documentario naturalistico in cui c'è questo narratore onnisciente che è lì con una videocamera che ti fa vedere gli animali che si comportano senza sapere che tu in effetti sei lì a osservarli e Walking with Dinosaur era il primo prodotto diciamo di massa che tentava questo approccio però con questo approccio c'è un piccolo problema che magari per il pubblico generalista non è particolarmente problematico però per un pubblico magari di appassionati o magari di addetti ai lavori risulta un pochino a volte antipatico che poi è quello della speculazione sì diciamolo subito i dinosauri a volte o anche gli altri animali venivano rappresentati un po' più grandi di quello che erano un po' più grandi di quello che erano esatto tagliamoci subito vai cita l'esempio di cui mi parlavi prima ah no sì prima stavamo parlando del liopleurodon questo rettile marino che viene rappresentato in Walking with Dinosaurs grande quanto una balenotta azzurra ovviamente non mi ricordo se dicono che è di una trentina di metri quando in realtà un animale dicevamo prima sui dieci metri come un'orca più o meno sì dagli otto ai dieci metri più o meno lì avevano un po' esagerato pur sapendo di stare esagerando quindi quella cosa lì diciamo che a livello scenico a livello così di sceneggiatura può funzionare come un pubblico che non è interessato alla scienza però è un po' bruttina quindi diciamo non è stata diciamo una incomprensione riguardo alle stime era proprio per spettacolarizzare la cosa sì perché l'animale non era completo però l'hanno un po' tirata per le lunghe un po' gonfiato un'altra cosa palese era per esempio quella di utaraptor che per chi non lo conoscesse si tratta di un dromeosauride il più grande dromeosauride finora mai scoperto diciamo delle dimensioni di un cavallo più o meno insomma i dromeosauridi sono quella classe di dinosauri di cui fa parte veloci raptor la puntata con utaraptor benché sia utaraptor quindi dello Utah negli Stati Uniti era ambientato in Europa ha fatto una trasferta importante esatto utaraptor l'Europa non l'ha mai vista da quello che sappiamo anche perché i tempi che era l'inizio medio cretaceo tutto sommato erano abbastanza lontane c'era un po' di mare in mezzo esatto a meno che non volasse o che non nuotasse era un po' difficile se non sbaglio in Jurassic World 3 i raptor nuotano anche sotto acqua c'è beh sì certo acqua ghiacciata tra l'altro eh vabbè la criogenia si un polaretto sì quindi diciamo che erano state prese alcune licenze poetiche soprattutto anche per quanto riguarda alcuni comportamenti che ovviamente non potendo sapere ma per il tipo di narrazione che veniva portato ovvero molto documentaristica venivano sottointesi in maniera abbastanza che si dava per scontato che fossero reali tutto sommato possono creare nel pubblico un pochino di quel problema che abbiamo riscontrato prima ovvero che poi si fissano con una determinata immagine che poi risulta sì esatto è sempre un po' questo problema qua invece di uno spin off di Walking with Dinosaurs molto bello è la ballata di Big Al sì che è uno spin off che racconta la storia dell'allosauro che è conservata a Londra se non sbaglio mi sembra negli Stati Uniti non vorrei dire una cavolata che comunque è molto bello e quello è curato molto bene perché hanno anche rappresentato nella vita dell'animale i momenti in cui lui si è fatto male alla zampa ed effettivamente poi hanno trovato questa zampa che se non mi sbaglio è tanti anni che non lo vedo quel documentario però questa zampa rotta che poi si è rimarginata la frattura ed è fatto molto bene quello anche lì però ovviamente hanno un po' giocato su queste cose qua che non si sa bene se fossero così o meno tipo all'inizio quando Al questo Big Al nasce viene curato dalla madre però non sappiamo quello cioè se avessero le cure parentali sì sono sempre delle licenze poetiche che vengono prese però sono nel range di licenze poetiche che ci possono stare fattibile sì molto bello se lo trovate recuperatelo perché è veramente bello ecco questa cosa che hai detto su le cure parentali mi fa venire in mente un altro prodotto che invece è uscito quest'anno Prehistoric Planet di cui io ho visto soltanto il primo episodio per ora mi è piaciuto tantissimo e lì si vede un tirannosauro che si prende cura dei suoi piccoli voi l'avete vista la serie? l'ho vista tutta quante esatto anche perché comunque sono cinque episodi l'ho vista meno un paio di volte episodi cioè forse anche di più molto bella molto bella anche questa curata dalla BBC ovviamente un team molto diverso però comunque anche qui troviamo un approccio molto simile a quello che era Walking with Dinosaur vent'anni prima quindi comunque un approccio documentaristico in cui c'è un narratore onnisciente che è lì con una videocamera che spia gli animali che si comportano in modo coerente con quello che si presume come fosse il pattern etologico di questo tipo di creature nel loro ambiente è come se non sapessero che l'osservatore sta lì insomma un grande fratello dei dinosauri che però tutto sommato si è catalogato come documentario mentre in realtà però sarebbe una come anche Walking with Dinosaur è una docu fiction sì esatto perché da un certo punto di vista racconta una storia di cinque la parte purtroppo non ci potrà mai essere un documentario perlomeno finché la fisica e la scienza ce lo impediranno un vero documentario sui dinosauri quindi sarà sempre una fiction comunque una ricostruzione su degli atteggiamenti che potrebbe essere interessante vedere o anche solo ipotizzare esatto ed è molto carina comunque appunto come dicevi tu Andre del tirannosauro che dovrebbe essere un maschio che si prende cura dei piccolini ed è una cosa che fanno anche i casuari i casuari maschi si prendono cura ai papà dei piccolini sì ed è bello molto bello cioè secondo me questa serie qua può essere un nuovo spunto per rilanciare in maniera veramente corretta quello che sappiamo fino ad oggi dei dinosauri quindi potrebbe essere veramente una nuova rivoluzione per l'iconografia dinosauresca anche per chi non è appassionato e per chi ha solo sentito parlare o solo intravisto tra l'altro fa molto ridere il fatto che in Walking with Dinosaur c'è anche lì una parte dedicata ovviamente al tirannosauro Strix lì però è tutto molto di più matriocentrico nel senso che lì è la femmina che ritratta come più grande del maschio anche se in realtà non lo sappiamo questa è proprio una speculazione tipica di quell'epoca perché si era scoperto da poco o comunque si erano fatti da poco dei studi su Sioux che è lo scheto il tirannosauro più completo mai scoperto che si pensava all'epoca fosse una femmina anche se in realtà non lo sappiamo non abbiamo prove certe essendo il più grande loro hanno detto beh più grande allora era una femmina allora le femmine erano più grandi dei maschi ma anche perché immagino una speculazione legittima in quanto in molte specie la femmina in molte specie di uccelli in molte specie di uccelli in particolare i rapaci sì nei casuari sì in realtà nella maggior parte degli uccelli il maschio è più grande della femmina invece in Prehistoric Planet c'è il maschio invece di Tyrannosaurus Rex che appunto si occupa della prole e c'è un po' questo ribaltamento di ruoli vogliamo pensare a una cosa in Walking with Dinosaur quando c'è il tirannosauro c'è la scena in cui loro si devono accoppiare o che è così e in Prehistoric Planet c'è la scena in cui i tirannosauri si devono accoppiare ma perché devono sempre fare accoppiare questi tirannosa gli altri non si accoppiano vero perché se tu ci pensi il Carnotaurus poverino invece anche lui ha la scena di accoppiamento spoiler e va in bianco va in bianco e lì la femmina è più grande del maschio anche lì la femmina è più grande del maschio però non lo so secondo me ci può stare come cosa se non si sa è nel range come dicevamo prima delle cose plausibili delle cose fattibili visto che nessuno lo saprà mai con certezza forse una piccola speculazione perché del futuro non c'è certezza immagino che uno possa andare un po' a tentativi magari in futuro chi ci sta ascoltando vivrà in un'epoca in cui i dinosauri ci saranno poveri stolti non avevano l'ingegneria genetica beati voi diciamo noi e basta mentre si ascoltano questo podcast vintage dalla base su Berlino 4 che è su Marte esatto Berlino 4 che aspetta che precisione perché Berlino 1 sulla Luna Star Trek è roba comunque io vorrei buttare una piccola bombetta nel senso che dal mio punto di vista adesso ve lo argomenterò questo punto di vista il primo film di Jurassic Park ma mettiamoci anche il secondo non è molto diverso da Prehistoric Planet ok nel senso che spiegacelo tutte e due sono prodotti che comunque sono prodotti di fiction quindi comunque non documentaristici ma non comunque con dinosauri reali ovviamente sono due prodotti di fiction in cui fondamentalmente vengono messe in scena quelle che sono al massimo delle conoscenze scientifiche di quel periodo su questi animali perché in Jurassic Park soprattutto il primo nel secondo c'è una parte molto interessante parlo dei film ovviamente nel secondo c'è una parte interessante sull'etologia di alcuni di questi animali ovviamente plausibile speculativa però fondamentalmente era quello che ci si immaginava fosse al massimo delle conoscenze di quell'epoca lì ovviamente rivoluzione dei dinosauri dinosauri di Paul oggi invece Prehistoric Planet è anche lì un prodotto di fiction in questo caso docu fiction in cui si mettono in scena il massimo della conoscenza che è fin'oggi riguardante questi animali insomma dinosauri quindi da un punto di vista prettamente pragmatico non sono due prodotti molto diversi a parte le persone che in uno ci sono e l'altro manca però dal mio punto di vista tutto sommato sono abbastanza simili secondo me Prehistoric Planet da un certo punto di vista forse in maniera minore ma avrà un ritorno di iconografia simile a Jurassic Park sì dai secondo me sì io ho già qualche rappresentazione come vi dicevo prima di sauropodi con queste sacche sulla gola tipo bolle così che si gonfiano l'ho già vista più volte fatta da anche da ragazzini così non veri paleo artisti ma sto vedendo che Prehistoric Planet ha tecchito ha tecchito oppure anche la colorazione che aveva magari il tirannoseurus rex o i piccoli del tirannoseurus rex sì è una cosa che anche quelli leggermente più mati rispetto all'adulto che ha bravo bravissimo esatto secondo me farà scuola quindi sarà interessante vedere in futuro come andrà e soprattutto se sbucheranno anche qui le persone che poi si fissano e si cristallizzano con quella rappresentazione di alcuni animali e poi fanno un po' fatica ad accettare quelle che poi saranno le nuove scoperte in particolare mi fa sorridere pensando a un argomento specifico che sono le labbre a eteropodi che sono un argomento molto molto caldo forse tratteremo in qualche puntata più avanti chissà sì sì lo tratteremo spoiler così noi lo sappiamo già a gamba tese ma anche loro adesso comunque direi che abbiamo parlato dell'argomento esaustivamente perciò chiudere questa puntata ringraziandovi tutti voi che avete scusate cosa c'entri tu ci sono Fabrizio niente ragazzi questa puntata è molto tematica via no cos'è che come abbiamo iniziato no niente che stiamo chiudendo la puntata perché siamo a buon punto e abbiamo detto tutto beh io direi che per oggi l'argomento l'abbiamo anzi l'avete più che altro esaustivamente trattato quindi ringrazio chiunque ci stia ascoltando in questo momento e vi invito a continuare a seguirci e supportarci attraverso i social e questo podcast ovviamente facciamo sempre le solite raccomandazioni iscrivetevi al canale di youtube esatto iscrivetevi alla pagina di instagram che appunto è mamma voglio fare che appunto è mamma voglio fare il palo artista e e e simone vado la nostra copritevi la sera quando fa freddo mi raccomando e quando uscite state vacuorte mangiate la verdura esatto tanta verdura perfetto grazie mille alla prossima ciao 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 ciao